Si discuterà delle partecipazioni dell'ente in alcune società nella seduta del Consiglio Provinciale di Teramo di domani pomeriggio. Dopo aver contestato asperamente le delibere di indirizzo redatte un paio di mesi fa dalla maggioranza, i gruppi di opposizione in maniera compatta ripropongono la loro contrarietà alla decisione che domani potrebbe essere ufficializzata di uscire fuori da ARPA e TEAM e annunciano battaglia durissima. E' un errore gravissimo uscire da società come ARPA e TEAM che producono utili, uscirne significa fare un danno economico e patrimoniale all'ente provincia e tra l'altro menomare la possibilità di intervento e di programmazione della provincia in campi come il trasporto pubblico locale e la gestione del ciclo integrato dei rifiuti che sono campi essenziali e per i quali tra l'altro la funzione delle province in futuro sarà rafforzato dalle nuove disposizioni legislative e nazionali. La minoranza contesta anche l'uscita da Innovazione, società che opera l'affidamento di servizi in house, proprio mentre la provincia si sta adoperando per costituire un'altra società che ha la medesima funzione. Dissenso anche dal passo indietro nei confronti di Banca Etica. Che non è una banca come tutte le altre perché ispira la sua azione ai principi della finanza etica, non ripartisce utili, finanzia soprattutto con lo strumento del microcredito progetti di valenza sociale, culturale e ambientale. È grave, è segno davvero di scarsa consapevolezza delle cose, forse anche di scarsa conoscenza in questo caso. Su questo punto almeno speriamo che ci sia un ravvedimento, un ripensamento in Consiglio provinciale da parte della maggioranza.